Questa è la gente del San Belvedere di Sera, questa è Belvedere Road, io ho appena percorso il Embankment Bridge e questa è la vista sul Southbank, guardate che c'è, guardate quanta gente, tutti gli Stolz, ecco, lo sapevo che avevo ragione. E locali non affollati, ma di più, questo è il Southbank Center, nello specifico è la Royal Festival Hall, lì su della terrazza c'è un ristorante, e adesso noi invece andiamo in quella che è la... Stai a scattare qui? Perché penso che Anna sia giù da quella scattata. Voglio arrivare alla fontana, quindi vediamo un po' tra... Allora, vi faccio vedere la fontana, ma di quelle gettonate... Ah, qua ci sono installazioni, ci sono sempre installazioni, questa è un'installazione. Allora, facciamo questo percorso insieme perché io non l'ho vista, questa è un'installazione artistica. percorso così che porta Nowhere, mi porta all'uscita. Ecco qua. Qua fanno i cocktails. No, vi voglio portare alla... alla fontana dove nei giorni scorsi, soprattutto l'altro ieri, quando c'era questo caldo incredibile. Ci sono scelte un sacco di immagini di... di persone che si bagnavano a questa fontana. E la vedete sullo sfondo. Qua hanno fatto questi... eh... pop-up sotto il bar. Ci sono le tene. Sopra pieno. Ma il Southbank Center è un posto molto famoso, molto popolare perché offre la possibilità a tutti di stare... di prendere qualcosa o anche di non prendere niente, sedersi, avere la wifi gratuita e godere la vista sul fiume che non è... da poco. Grazie. 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 Grazie.